Questa volta la camerata musicale solmonese ha voluto offrire al suo pubblico un concerto particolare seguito da una grande artista ancorché molto giovane. La pianista è Gloria Campaner, veneziana, e è già stata anni addietro al Caniglia. Il concerto di domenica scorsa ha voluto rendere omaggio a Ludwig van Beethoven in occasione dei 250 anni della nascita. Gloria, benché giovane, ha una lunga carriera alle spalle. Dal 2018 è direttore artistico dell'Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Messina. Attualmente svolge regolarmente la sua attività concertistica presso istituzioni musicali italiane ed estere. In particolare ricordiamo l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestra Sinfonica della RAI, l'Accademia Pilarmonica Romana, concerti del Pirinale di Radio 3 ed altro. La carriera artistica di Gloria è molto lunga. Vogliamo solo ricordare che nell'ottobre del 2017 è stata artista in residenza e a radio e buttato con la Pilarmonica della Fenice di Venezia. Nel concerto sul Monese, pure dedicato molto spazio a Beethoven, ha iniziato con Ottorino Le Spighe e poi Debussy. Il pubblico della Camerata ha gradito il concerto e non ha fatto mancare al pianista, convinti, continui applausi.